Salve a tutti amici e bentornati qui sul canale Oggi voglio parlarvi di lei Lei, ne ho parlato in un video qualche tempo fa è la mia camera con cui praticamente registro tutti i miei video e la utilizzo per lavorare ed è una Lumix S5 Quello di cui voglio parlarvi oggi è il ragionamento che ho fatto nel costruire il mio umilissimo corredo Questo perché ho fatto la scelta di utilizzare una Lumix perché a me piace tantissimo la pasta dei colori, il modo di approcciare Insomma, questa per me è un ritorno alla GH5 in versione full frame Infatti questa, come già detto nella recensione, è una camera full frame quindi con un bel sensore grosso che mi permette di ottenere dei risultati che mi interessano risultati che potrei tranquillamente ottenere anche con un micro 4 terzi però questa sul mercato attualmente è più economica della flagship di micro 4 terzi che per esempio in questo momento storico la GH6 questa è più economica ed è anche più piccola e più leggera Sembrerà strano che una mirrorless sia più leggera di una micro 4 terzi la realtà dei fatti è che quella micro 4 terzi nello specifico ha delle caratteristiche tecniche che la elevano con delle funzioni in più rispetto a questa Nella particolarità quella dei codec per la registrazione video più evoluti rispetto alla S5 che comunque è un comparto video di tutto rispetto con la registrazione 4K fine 60 più in camera e con un bel 10 bit a bordo quello che a me interessava per il resto poi i formati di registrazione o meglio le curve dinamiche e la gamma dinamica sono esattamente le stesse come il menu è il solito menu Panasonic evoluto naturalmente perché questa comunque è una camera uscita nel 2020 quindi un pochino più recente rispetto a GH5 e G9 ed è la più piccola della famiglia Lumix S ed è sostanzialmente questo il motivo per cui l'ho scelta tutti questi motivi che vi ho elencato sono quelli per cui ho scelto questa camera nel mio zaino per lavorare e per registrare i contenuti qui sul canale ora non sto utilizzando naturalmente un S5 sto utilizzando un'altra macchina che ho in prova per una prossima recensione mentre davanti a questa macchina io ho provato tantissime lenti in realtà ho provato praticamente tutti i fissi di Lumix dal 24 al 35 al 50 all'85 e sono rimasto estasiato da tutti e quattro gli obiettivi perché? perché portano tutti e quattro lo stesso barilotto sono praticamente identici tra di loro se non che cambia la focale tutti quanti f1.8 con dei costi non esorbitanti ed è tranquillamente fattibile fare un corredo con quelle lenti ma per il mio modo di lavorare per le necessità che ho io ho bisogno di uno zoom e quindi dopo averli avuti e provati tutti e quattro nel tempo ho costruito o meglio ridotto quello che è il mio corredo l'unica cosa che ho ottenuto nel mio corredo è lui il 20-60 f3556 se non vado errato 3556 che è l'ottica kit della camera ora l'ho ottenuto per due ragioni uno perché una lenti kit che parte dal 20 mm non è mai esistita tutte le lenti kit che sono sempre esistite hanno un equivalente full frame o su full frame di 28 mm ci basti pensare al 28-70 di Sony o il 18-55 di Canon per le macchine PSC sono esattamente un equivalente del 28-70 e così un po' tutte le lenti standard insomma tutte le lenti kit tranne forse quella di Fuji che è un 18-55 f2-8-4 quella probabilmente è l'unica che esce dal mondo del 35-56 che sono i diaframmi classici per le lenti kit è l'unica che si porta un pochino più dietro e porta un 28-4 per le lenti kit parliamo di quelle economiche questa lente è particolare un po' come quella Fuji quella Fuji si distingue per quella che è la sua capacità di avere un diaframma più aperto questa invece ha un'altra capacità quella di avere un grandangolo molto più spinto infatti parte da un 20 mm per arrivare a un 60 ed esattamente il range zoom perfetto per fare qualsiasi cosa da un ritratto a 60 mm certo bisogna stare almeno sui 70 per fare un ritratto ma con 60 si può tranquillamente fare ad avere un ottimo grandangolo che è anche più del 24 mm a 20 unica grande pecca? sì, è il 35-56 quindi quando andiamo a 60 mm andiamo a chiudere a 5-6 di diaframma ma siamo su 3,5 quando siamo a 20 mm e questa non è una cosa malvagia perché ci permette di avere un 20 mm sotto f4 di un'ottima qualità economico questo perché il lente in kit ci dà la possibilità di risparmiare tantissimo sull'eventuale acquisto di questa lente del 20-60 che io vi consiglio assolutamente io la utilizzo davvero raramente ma la utilizzo soprattutto quando ho bisogno del 20 mm quando ho bisogno di fare un campo largo beh, subito monto questa e utilizzo questa come lente per lavorare mentre quello di cui voglio parlarvi in realtà è l'accoppiata perfetta che ho trovato su questa camera io come sapete ho posseduto e utilizzato Sony e provato Sony per tanto tempo e una delle lenti che ho avuto sempre su Sony è stato il 28-75 di casa Tamron fino a che poi Sigma non ha presentato il suo 28-70 f2.8 e ha presentato giustamente essendo nella L-Alliance lui il 28-70 f2.8 per L-mount questa è la lente perfetta da accoppiare a un S5 perché vi dico questo e perché ve ne sto parlando in un video dedicato ho fatto tanti confronti e ho fatto tanti test per arrivare a un mio piccolo corredo che sostanzialmente è composto da due lenti almeno vi parlo per le mie esigenze e per le mie necessità e tutti i test che ho fatto tutte le prove che ho fatto mi hanno portato ad escludere i fissi per una ragione di velocità di utilizzo quando lavoro perché è più scomodo utilizzare i fissi è più bello artisticamente quando si ha il tempo di poter scegliere l'inquadratura e di poter cambiare lente quando invece si è al lavoro e c'è bisogno di versatilità un fisso che ti passa da un grand'angolo a un tele un medio tele che è un 70 mm f2.8 quindi abbastanza luminoso e tra le altre cose è molto compatto e piccolo beh è tanta roba io ultimamente stavo ragionando di passare dal 28-70 al 24-70 o Sigma o addirittura Lumix infatti stavo per prendere il 24-70 serie S di Panasonic f2.8 ed mi sono fermato quando l'ho montato sulla camera per provarlo l'ho provato per una decina di minuti e la prima cosa che ho detto ho detto non è una lente adatta ad una S5 o meglio qualitativamente è una lente fenomenale probabilmente e sicuramente non era adatta per le mie esigenze lavorative perché vi lascio guardare questa lente il rapporto grandezza con il corpo macchina permette ed anche il peso permette di avere comunque il baricentro al centro del corpo della macchina senza protendere con il peso sulla lente con il 24-70 f2.8 di casa Panasonic che ho provato al di là dell'estrema qualità estrema velocità estrema nitidezza estremo tutto era estremo anche il peso tant'è che quando la utilizzavo dovevo necessariamente portare la mano sotto la lente perché è una lente molto ma molto pesante lente fantastica e un costo molto elevato rispetto anche esempio a questo rispetto al 24-70 di casa Silduman un estremo costo giustificato da un'estrema qualità ma un estremo peso anche tant'è che mentre lo provavo mi dice cercavo di trovare una giustificazione anche 4 mm in più che avrei guadagnato da quella lente e mi son detto che il peso non tanto il costo ma quanto il peso e l'ingombro non valevano la pena perché quei 4 mm che da 24 mi separano al 28 li recupero con lui in realtà io la maggior parte delle volte utilizzo gli obiettivi agli estremi non è una cosa che si fa lavorativamente per mantenere la qualità ma per le mie necessità molto spesso lavoro agli estremi degli obiettivi e quindi lavoravo in questo caso molto spesso lavoro tra 28 e 30 mm e poi sparo a 70 mm quindi nelle vie di mezzo ci sono molto raramente le vie di mezzo le utilizzo realmente quando faccio fotografia per passione ma per lavoro sto tra i 28 e i 30 mm e poi sparo a 70 mm nelle altre circostanze come in questo caso qui questa lente la utilizzo prevalentemente a 20 mm e poche volte l'ho tagliata a 24 mm quindi questa cosa cosa significa che nel mio caso quella lente l'avevo utilizzata tra 24 e 70 il 70 mm f2.8 posso tranquillamente gestirmelo con lui perché tanto anche questo il 24 mm arriva a 70 mm perdonatemi f2.8 quindi posso gestirlo nel campo largo di questo arrivo a 28 ora quei 4 mm nella scala della disposizione ottica dello schema ottico cambiano tanto cambiano più i millimetri tra 24 e 28 rispetto che 70 e 80 questo per tutta la motivazione ottica che non sto qui a spiegare perché sarebbe molto lungo e tedioso e cercavo quindi di darmi di motivarmi a scegliere quella lente piuttosto che lui che è più piccolino e più compatto la motivazione non l'ho trovata perché oltre a ripeto la questione costo c'era la questione peso era davvero molto pesante e mi sono detto continuo a conservare questo che è una lente molto leggera in realtà non è fatta di metallo ma è comunque fatta di plastica quindi è leggermente è più leggera oltre naturalmente al barilotto che è fatto non al barilotto all'innesto che è fatto in metallo la costruzione lascia sì i materiali sembrano chip in realtà non lo sono non lo sono mai stati non si è mai graffiata non si è mai distrutto o ammaccata mentre a differenza sigma porta una sorta di lega non è certamente metallo ma è una lega sembra più resistente rispetto a queste plastiche utilizzate da Numix questo sì è più pesante ma non è pesante quanto il 2470 quindi la mia decisione scelta è stata quella di tenere nel mio kit un 2870 f2.8 che ha un costo molto inferiore parliamo circa 900 euro nei confronti 2200 euro della lente di casa Numix e di tenere comunque in borsa lui per ottenere un grandangolo più spinto nell'eventualità mi serva un'altra cosa che volevo fare era scegliere come acquistare una lente grandangolare sempre uno zoom e ho pensato di prendere il 16-35 f4 e anche lì rispetto al costo per ora ho deciso di tenere il 20 mm f3.5 anche perché quella lente il 16-35 di casa Numix è soltanto f4 quindi a 20 mm qui posso recuperare addirittura mezzo stop non arriverò a 16 certamente il 16 mm fa comodo in tante circostanze ed è anche una lunghezza focale molto bella interessante però per 1500 euro mi continuo a conservare lui quindi volevo dedicare volevo spendere queste due parole sul mio modestissimo corredo e dove possibile ho notato che in molti anche sul web utilizzano Panasonic S5 per creare contenuti perché mi sono reso conto che ha un'estrema qualità ed è molto ma molto bella la pasta delle immagini Panasonic e in molti utilizzano il 24-70 io invece volevo portare la mia esperienza con il 28-70 un'esperienza altamente positiva ci ho girato praticamente tutti i contenuti fatti con l'S5 tranne qualcuno ho girato con il 24 mm o un paio ho girato con il 35 mm f1.8 per il resto sempre ho utilizzato il 28-70 al lavoro portato sempre il 28-70 tutte le foto che scatto le scatto con il 28-70 quindi sono estremamente soddisfatto da questa lente che ha un costo molto contenuto per una qualità molto elevata insomma io spero che questo mio raccontarvi la mia esperienza con questo corpo macchina e questa lente possa essere d'aiuto a qualcuno anche nell'eventuale scelta ripeto 24-70 quello Sigma non l'ho provato ancora lo vorrò provare anche perché non costa 2200 euro quanto il Panasonic ma ne costa circa 1200-1300 un pochino più difficile da trovare ma appena avrò la possibilità lo proverò è comunque grosso e pesante molto simile a quello di Panasonic quindi anche lì va fatta il paragone con il 28-70 perché altrimenti questo dalla mia borsa non uscirà mai proprio per capire se riesco a trovare una quadra perché la mia idea è sempre avere una monolente una monolente con cui poter far tutto però avere il 20mm f3.5 è davvero una gran cosa insomma io vi ringrazio di aver visto questo video vi invito a venermi a trovare anche su Instagram ed iscrivervi al canale così da essere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno e se avete qualche lente da consigliare scrivetemelo qui sotto nei commenti perché così mi vado ad informare se c'è qualche novità che mi sono perso e vediamo come risistemare il corredo insomma siamo giunti alla fine io vi ringrazio per la visione ci vediamo prossimamente con un nuovo video